Ciao a tutti e benvenuti a una nuova lezione di Adobe Lightroom Classic. Io sono Carlo del corso di fotografia online e gratuito di Player Duelighting. In questo video parleremo dello strumento mascheratura che ci permette di fare modifiche solo in alcune zone delle nostre fotografie e questo è uno strumento molto potente perché ci dà la possibilità di lavorare una nostra fotografia dall'inizio alla fine rimanendo dentro Lightroom e non dovendo usare altri programmi di foto di tocco come per esempio Photoshop e andiamo subito a vederlo. Lo strumento mascheratura si accede dal modulo sviluppo cliccando su questa icona o premendo maiusco più W. Quando clicchiamo vediamo che si apre questo menu con tutta una serie di tipologie di maschere che ci permettono in maniere differenti di disegnare una selezione sull'immagine che stiamo lavorando e a questo punto attraverso questo menu che riassume un po' tutti quanti gli aspetti dello sviluppo di un file RAW possiamo effettivamente cambiare la nostra fotografia soltanto nella zona che abbiamo selezionato e questi strumenti ci permettono anche di una volta abbiamo fatto la selezione iniziale anche di rifinirla e vedere un po' come possiamo rendere perfetta la selezione che abbiamo appena fatto. Vediamo che qui nella voce nel menu con il trattamento localizzato riconosciamo gran parte delle impostazioni che abbiamo visto nelle lezioni precedenti tra il menu base e un po' tutti quanti i menu anche più sotto. Una volta che abbiamo fatto la nostra prima maschera quando riclicchiamo sullo strumento vediamo che non si apre più il pannello con la richiesta dei vari tipi di mascherature ma dobbiamo andare a cliccare su questo piccolo menu qui a sinistra dove possiamo gestire tutte le maschere che abbiamo fatto su questa fotografia oppure crearne di nuove selezionando come vedete dalla lista che abbiamo visto poco fa. Nel 2021 tutto lo strumento mascheratura è stato completamente rivisitato infatti un tempo erano strumenti separati il pennello la sfumatura lineare e quella radiale invece per come è fatto adesso è molto più potente perché ci permette di intersecare tra di loro far interagire tra di loro queste maschere per ottenere la selezione che ci piace di più e che ci serve per una fotografia. Le prime due voci che vediamo sono seleziona soggetto e seleziona cielo che sono quelle più futuristiche come funzioni infatti se andiamo per esempio su questa fotografia con le zampe di Paddy se selezioniamo seleziona soggetto Lightroom utilizzerà la rete neurale di Adobe per capire l'immagine in qualche modo e riuscire a farci in un attimo una selezione del soggetto che secondo Lightroom è quello principale della fotografia e vediamo che in questo caso ha indovinato piuttosto precisamente su cos'era importante in questa fotografia e una volta che ha fatto questa selezione io potrei tranquillamente cambiare per esempio la temperatura colore soltanto delle zampette del gatto cambiare l'esposizione e così via. La cosa interessante è che questo è un tipo di selezione che comunque non è definitivo ovvero se vogliamo possiamo anche andare a sottrarre per esempio con il pennello una parte che non vogliamo lavorare non vogliamo selezionare con questa selezione automatica oppure potremmo anche aggiungere per esempio una sfumatura su una parte della fotografia e a questo punto se cambiamo vediamo che possiamo effettivamente continuare a lavorare anche sulla selezione che è stata fatta automaticamente. La seconda voce è allo stesso modo molto interessante e molto potente soprattutto per chi lavora con la paesaggistica ovvero è seleziona cielo possiamo sempre cliccarla e Lightroom analizza la fotografia e ci seleziona magicamente soltanto il cielo della nostra immagine e questo è uno strumento molto potente perché spesso e volentieri nei paesaggi il cielo è o troppo scuro o di solito troppo chiaro e facendo una selezione di questo genere possiamo andare a per esempio controllare le alte luci e recuperare più dettaglio che vogliamo possiamo cambiare la temperatura colore per dare un aspetto più o meno caldo al cielo e così via. Il prossimo strumento della mascheratura è quello che utilizzerete sicuramente più di tutti ovvero il pennello che possiamo anche richiamare da una fotografia premendo semplicemente il pennello. Quando abbiamo il pennello se clicchiamo in maniera col tasto singolo sinistro possiamo fare una selezione che se lasciamo il mouse comunque ci permette di rimanere sulla stessa maschera del pennello e fare più pennellate e a questo punto io per esempio in questa fotografia potrei selezionare velocemente quest'area e andare sulle luci e abbassarle per recuperare un po' di dettaglio su questa zona illuminata dai fari. Con lo strumento pennello abbiamo questo questo piccolo menu che ci permette di controllare la grandezza e la sfumatura insomma tutti i comportamenti del pennello che stiamo utilizzando. La dimensione è quella più facile vediamo che se ingrandiamo la dimensione semplicemente una pennellata andrà a influire una zona più grande. Riattiviamo la sovrapposizione così è più facile capirlo. Se andiamo a fare una dimensione molto piccola potremmo andare a fare dei dettagli molto piccoli nella nostra fotografia se vogliamo fare un qualche intervento di fino. La sfumatura invece è questo cerchio un po' meno diciamo chiaro intorno a quello principale e ci permette di fare di selezionare quanto è sfumato il pennello che stiamo utilizzando quindi facciamo qui un esempio veloce questo è un pennello senza sfumatura e questa la stessa dimensione è un pennello con la sfumatura al massimo. Di nuovo qui in base al tipo di dettaglio che vogliamo andare a toccare potrebbe servirci più o meno sfumatura. Per quanto riguarda le scorciatoie via mouse e via tastiera della dimensione della sfumatura se utilizziamo la rotellina del mouse possiamo ingrandire o diminuire la grandezza del pennello. Se teniamo premuto maiusc e utilizziamo la rotellina del mouse vediamo che possiamo cambiare la sfumatura e questo è comodo perché in questa maniera non dobbiamo ritornare ogni volta su questo pannello ma possiamo effettuare tutto quanto mentre stiamo lavorando in maniera più dinamica. Il flusso e la densità per chi lavora con Photoshop potrebbero essere degli strumenti diciamo delle opzioni più familiari ma essenzialmente il flusso è come lavorando con un tipo di vernice che si addiziona sopra a ogni pennellata con un flusso molto basso vediamo che la nostra pennellata è molto debole all'inizio però se continuiamo a disegnare su un punto diventa sempre più forte. Chiaramente adesso voi state vedendo rosso perché è la selezione che ho attivato come sovrapposizione ma se andiamo su un'altra fotografia e selezioniamo il pennello possiamo fare una prima selezione magari impostare molta sovraesposizione e vediamo che adesso con il flusso messo molto basso se faccio una passata soltanto schiarisco molto poco ma se continuo a passare sullo stesso punto l'effetto diventa sempre più potente. La densità invece è un po' come il livello massimo che può raggiungere questo pennello a prescindere dal flusso che ho selezionato se andiamo con il flusso a 100 e la densità a 100 vuol dire che noi quando facciamo una passata l'effetto è totale già dalla prima passata del pennello. Se noi abbassiamo la densità quasi al minimo invece vediamo che facendo una passata questo effetto sarà molto debole e se andiamo attivare anche la sovrapposizione vediamo che non riusciamo quasi a vedere l'effetto che stiamo facendo anche se ci passiamo sopra tante volte vediamo anzi che stiamo praticamente cancellando quasi gli effetti precedenti. Se noi aumentiamo tipo a metà e abbassiamo il flusso vediamo che possiamo fare un primo effetto così se vado avanti arrivo fino a un certo grado di intensità dell'effetto ma non posso superarlo nel momento in cui attivo a 100 la densità a questo punto vedo che l'effetto aumenta un po' di più. L'ultima voce che dobbiamo conoscere per quanto riguarda il pennello è la maschera automatica. Adesso se cancelliamo un attimo le altre pennellate che abbiamo fatto facciamo una pennellata diciamo normale con un po' di sfumatura e aumentiamo come sempre l'esposizione tantissimo così vediamo subito l'effetto. Adesso se attiviamo la maschera automatica quello che succederà è che Lightroom cercherà di capire quali sono i bordi della nostra selezione in automatico andando per esempio a rimanere sullo stesso colore o la stessa intensità di luminosità. Se per esempio cominciamo a pitturare da questo dettaglio arancione vediamo che anche se andiamo oltre l'arancione Lightroom cercherà di rimanere su questa parte appunto arancione senza andare a intervenire sulle altre parti della barca. Questo ovviamente è un esempio molto esagerato però noi possiamo fare anche un effetto più delicato e vediamo che così possiamo fare una selezione di tutta la parte laterale della barca e per esempio se vogliamo potremmo cambiare la temperatura colore o anche la saturazione, la chiarezza e così via. Nella parte alta del menu del pennello vediamo che c'è una lettera A, B e cancella. Queste sono due varianti del pennello che possiamo avere a portata di mano, potremmo utilizzare un pennello più grande e più sfumato per dei dettagli più grandi oppure è contemporaneamente un pennello più piccolo per fare delle correzioni di fino e questo è comodo perché possiamo cambiarle velocemente. Cancella invece è quando vogliamo effettivamente rimuovere una selezione che abbiamo fatto. Questo il pennello che cancella lo possiamo accedere sia cliccando qui sia se rimaniamo sul pennello normale tenendo premuto il tasto ALT e vediamo che cambia automaticamente sul pennello che cancella e facendo così possiamo rimuovere i dettagli che non ci piacciono. Per ora questo è tutto quello che ci serve sapere sul pennello e possiamo continuare a vedere la sfumatura lineare che è un'altra di quelle cose che viene usata molto da chi fa i paesaggistica perché si adatta al tipo di formato con delle linee dritte che tagliano tutta la fotografia. La sfumatura lineare ci permette di creare appunto una sfumatura su tutta quanta la fotografia scegliendone l'angolazione e quanto è morbida la transizione. Non vi preoccupate perché una volta che avete lasciato il mouse potete comunque modificare tutti gli aspetti di questa selezione. Se andate sulla parte centrale la spostate come centro, se vi tenete sulle parti laterali invece potete ruotarla come volete mentre se prendete questi angoli da una parte e dall'altra potete scegliere di nuovo come cambiare la morbidezza di questa transizione. Se per esempio noi volessimo potremmo selezionare tutta la parte bassa della fotografia e cambiare un po' la temperatura colore magari rendendola più calda per creare un contrasto maggiore tra la parte sotto e la parte sopra. Un altro strumento invece è la sfumatura radiale che ci permette invece di fare praticamente un cerchietto nella nostra fotografia che possiamo modificare come grandezza e come sfumatura. Di nuovo una volta che abbiamo lasciato il mouse possiamo continuare a modificarlo, possiamo cambiarne la dimensione e la forma e anche cambiare la sfumatura di questo cerchio. Vediamo che qui abbiamo la voce della sfumatura, se la teniamo a zero chiaramente il cerchio è un cerchio perfetto, più la aumentiamo più questo cerchio sarà morbido. In questo caso posso anche introdurvi questo menu che è il menu per selezionare la sovrapposizione per capire un po' cosa stiamo selezionando in una maniera un po' più chiara. Ci sono varie voci, potete sperimentare, possiamo avere tutta la fotografia in bianco e nero quella che non stiamo selezionando è solo a colori la parte che stiamo selezionando o potremmo avere anche una maschera pura e semplice che vediamo effettivamente la parte nera è quella che non stiamo toccando della fotografia e la parte bianca è quella che stiamo influenzando. Però tendenzialmente la sovrapposizione colore, quella standard con il rosso è quella che solitamente è più comoda da utilizzare. In qualsiasi momento volete vedere solamente la fotografia senza la sovrapposizione vi basta cliccare qui e potete selezionare le diverse maschere cliccandoci sopra. Ci rimangono soltanto due tipi di maschere dal menu di selezione, quella di intervallo colore e intervallo luminanza. Intervallo di profondità è un tipo di selezione piuttosto avanzata che è in base alla distanza dal sensore della macchina fotografica ma può essere utilizzato soltanto con fotografie che hanno dentro anche questa informazione di profondità e solitamente con le macchine fotografica ancora non è così diffusa come opzione potrebbe essere più facile trovarlo invece con le fotografie fatte da alcuni telefoni che hanno anche questo sensore di distanza ma a noi quello che ci interessa nella maggior parte dei casi è poter utilizzare intervallo colore e illuminanza. Intervallo colore ci permette di fare una selezione in base a un colore se per esempio noi in questa fotografia vogliamo modificare soltanto tutti i dettagli arancioni possiamo con la pipetta cliccare su arancione e a questo punto se andiamo a cambiare l'esposizione vediamo che abbiamo selezionato soltanto questa zona con l'arancione. La voce migliora ci permette di rendere la maschera più o meno dura vediamo se la abbassiamo a uno riusciamo a vedere i bordi molto netti del colore che è stato selezionato via via che aumentiamo questa maschera diventa più morbida e vediamo che comincia a influenzare anche zone che sono più lontane dall'arancione. Possiamo invece andare se per esempio su un'altra fotografia e andare a selezionare la voce di intervallo luminanza in questo caso potremmo selezionare tutte le parti più scure della nostra fotografia con la pipetta andiamo sulle parti scure e qui abbiamo questo questo menu che ci permette di cambiare la selezione in base alla luminanza questa qui è la sfumatura della nostra selezione vediamo che più la avviciniamo alla parte che abbiamo selezionato e più questa selezione diventa dura più la allontaniamo e più la selezione diventa morbida e qui possiamo anche cambiare quanto stiamo prendendo della fotografia vedete che a sinistra è la parte più scura della fotografia a destra invece la parte più chiara quindi se io vado a allargare sempre di più vediamo che stiamo prendendo una zona sempre più ampia della fotografia potrebbe essere più chiaro se per esempio aumento oscurisco per esempio se aumento l'esposizione tantissimo a questo punto diventa più evidente quello che sta succedendo ovvero se io faccio la selezione molto bassa e magari a basso anche la sfumatura stiamo modificando soltanto tutte le zone più scure se vado ad aumentare vediamo che questa selezione inizia a crescere sempre di più e questo è quanto ci serve da sapere sulla forma base di tutti quanti gli strumenti di nuovo qui possiamo fare mostra anche la mappa di luminanza per avere una selezione più facile da individuare oppure su vari vari strumenti possiamo anche invertire quindi in questo caso io avevo selezionato gli scuri ma nel momento in cui faccio inverti cambio e vado a selezionare tutta la parte più chiara della fotografia nella prossima lezione vedremo come far interagire i diversi tipi di maschere e con vari esempi capiremo il vero potenziale dello strumento mascheratura come sempre per dubbio suggerimenti potete iscrivermi su carlochiocciola player2.com mi raccomando iscrivetevi alla newsletter di player2lighting a player2.com slash newsletter e potete seguire player2lighting su tutti i vari social network oppure sul sito di player2lighting a player2.com o sul forum a player2.com slash forum grazie per aver visto questo video e ci vediamo al prossimo ciao